A lettore della biblioteca di Pilla Spada, che voglia avvicinarsi al territorio del fantastico, si consiglia di guardare con attenzione a casa nostra e in particolare a Tommaso Landolfi. La pietra lunare è certamente uno dei romanzi imperdibili del Novecento. Il giovane studente Giovancarlo rientra in provincia al paese natio e viene coinvolto in una cena tra parenti, gente squallida e infelice che gli desta una grande compassione. Risvegliato da questi pensieri malinconici, si accorge che l'argomento di conversazione ha lasciato le piccole cose della vita quotidiana per spostarsi su una croce nera e sulla sua immensa ombra che durante una notte di luna calante si è pronunciata sopra un gruppo d'alberi senza lasciare intendere quale ne fosse l'origine. La nuova atmosfera macabra e misteriosa introduce l'arrivo di Guru, una strana ragazza dagli occhi violacei e profondi che prende parte alla riunione di famiglia. Non solo dice di venire dalla montagna pur essendo notte fonda, quando scosta le gonne svela un segreto sconcertante, ha le gambe di capra. Giovancarlo ne è sconvolto, specialmente perché è l'unico a risultare impressionato dalla visione di una creatura simile. Il giovane studente intellettuale che ha in spregio la provincia sembra conoscere molto poco il mondo, a differenza di quanto credeva. Con questo shock conoscitivo inizia la formazione di Giovancarlo al mondo primigenio e magico della montagna, dove umano, animale e divino sono coinvolti in relazioni profonde. Attraverso un rapporto carnale di attrazione e repulsione per Guru, Giovancarlo accede a una serie di apparizioni fantastiche che modificano per sempre la realtà del suo mondo. L'antico fagogita il moderno, il mistero svela la sua potenza sul logos del protagonista e del lettore, non meno affascinato di Giovancarlo dalle qualità della straordinaria Guru, figura antichissima che discende dagli archetipi di Poe e Baudelaire. Guru però non è un fantasma letterario, ma una realtà concreta e sensuale, un mito che torna nuovo e vitale. Questo processo di vivificazione dell'antico è certamente il marchio stilistico landolfiano per eccellenza. Lo si vede innanzitutto dalla lingua. La prima e più antica parola di Landolfi è quella che mima un mondo che non esiste più, un po' alla maniera di Leopardi. E come Leopardi, Landolfi è unico nel cogliere ciò che è in disuso e renderlo di nuovo vivo, restituendo a significanti ormai dimenticati un significato narrativo, al modo di altri grandi scrittori come Bufalino e Gadda, Manganelli e Mari. Ma la Pietra Lunare, un testo del 1939 e il sapore ottocentesco della lingua che vi si assapora in pieno novecento, ha avuto l'effetto di relegare uno dei più grandi scrittori italiani, dentro una fama di impraticabilità e stranezza, come ebbe a scrivere Calvino, quando raccolse in un volume alcuni racconti di Landolfi nella speranza di un nuovo incontro di questo autore con il pubblico italiano. Eppure la bellezza del testo sta proprio nella fedeltà che Landolfi ha concesso al proprio istinto. E questa bellezza ci rapisce perché Landolfi, senza timore di passare da conservatore, si lascia sedurre dalla sua passione. Nel pastiche, giudizio del signor Giacomo Leopardi sulla presente opera che si trova in appendice al romanzo, è ben spiegato il concetto. Non saper più palpitare per qualcosa che ci sembra inutile è la morte di ogni poesia.